Volevo dire una cosa, sono venuto da Milano a Vigenza con un'altra cosa di vino, tre quarti d'ora. Allora sono sette minuti dopo le dieci, questa è Radio DJ Spesos. Detornato. Grazie, fammi lo sconto sul chilometrato. Io non so quanti le dobbiamo fare, ma come ti chiedeva la tua povera mamma quando andavi nel divorzio? Sempre, comunque, lo sconto. Fa un po' di sconto. Partiamo subito. Siamo già vestiti con le scarpe da bicicletta. Bravo, sì. Buongiorno. Buongiorno. Ciao ciao. Buongiorno. Grazie Buoncosa? Sì Buoncosa? Buoncosa? Jäger, com'è? Molto buona sembra, no? È buonissima Ciao Acqua di gel Vigna Tappe a vigna Come si fa vacuno? Come si fa puole trefonna Ehi ora Ehi ora Minchia, siete andati in macchina No, 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 siamo un pochino allenati Per fortuna la strada, anche se un po' scomoda È stata fatta anche oggi Andiamo alla cotichella, io me ne vado Mister Sottecchi Sei bravo, mister Sottecchi